C'è una novità. Oh, sì? Oggi io abito qui. Oh, bene, sono contento. E questo lo divideremo. Oh, ecco. A seconda delle esigenze. Eh, certo. E cioè, a seconda delle sue e delle... Vie! Delle sue. Va bene. Benissimo. Oggi serve a me. Dammi la tua Filippa. La Filippa? E dove? Qui. Il vestito, imbecile. Il vestito, ecco. Le va bene, le scarpe, i pantaloni, la giocca, tutto, spero no. Cos'è questo dottore? Eh, eh, scusi, signor dottore. Che stai? Signor dottor Belva. Ma, signor Belva, io ho la penosa sensazione di essermi cagato addosso. La, la... Buttata fuori dalla finestra. Vanno a prendere un'altra, senza cacao. Sono all'erisgo al cacao, è chiaro? E se osi aprir bocca? Oh, oh, no, 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 no. Chiaro? Chiuditi in casa e non rispondere neppure all'orecchione. Ma, dice l'ingegner Martini, quello che lo sa anche lei, perché lui fa... Il telefono, scemo.